Il Paradiso, anticipazione 13 gennaio, sorprende Matilde, Marcello Riquidato. L'appuntamento con il Paradiso delle Signore 7 torna in onda venerdì 13 gennaio 2023 con l'ultima puntata di questa settimana. In onda come sempre dalle 16 in poi su Rai 1. Le anticipazioni della soap opera rivelano che, al centro dell'attenzione, ci sarà la sorpresa che Vittorio deciderà di fare a Matilde. Con la quale proverà in tutti i modi a spiazzarla. Marcello, invece, si ritroverà a fare i conti con l'ennesima doccia fredda che lo lascerà senza parole e avrà a che fare con la sua ex Ludovica. Nel dettaglio, le anticipazioni della nuova puntata del Paradiso delle Signore del 13 gennaio 2023 rivelano che Marcello dopo aver preso a pugni Ferdinando, verrà duramente bacchettato dalla Contessa. Adelaide, infatti, consiglierà a giovane barbieri di andare al più presto da Ferdinando e chiedergli scusa per quello che è successo. Come se non bastasse, dopo quanto è accaduto al circolo, Ludovica deciderà di troncare definitivamente ogni rapporto col suo ex fidanzato. Il quale aveva sperato ancora una volta in un possibile ritorno di fiamma insieme. Ludovica prenderà una decisione inaspettata e al tempo stesso fondamentale per la sua esistenza, la donna comunicherà ufficialmente la notizia del suo fidanzamento con Ferdinando Torrebruna e, in questo modo, liquiderà definitivamente Marcello. E poi ancora, le anticipazioni della prossima puntata del Paradiso delle Signore del 13 gennaio 2023. Rivelano che Vittorio deciderà di organizzare una sorpresa speciale per Matilde. In questo modo, i due ritroveranno una certa sintonia speciale dal punto di vista lavorativo. Dopo le novità degli ultimi giorni, che li hanno portati ad allontanarsi l'uno dall'altro. Intanto Tancredi deciderà di confessare ad Umberto la sua strategia per riconquistare di nuovo la moglie. A quanto pare, infatti, il nipote della contessa sta solo fingendo di essere cambiato, il suo scopo. Infatti, sarebbe quello di riuscire a riportare sua moglie a Torino e, in questo modo, allontanarla da Milano e Vittorio. Riuscirà Tancredi a portare a termine la sua missione oppure Matilde riuscirà a smascherarlo in tempo? Lo scopriremo nel corso dei prossimi appuntamenti di questa settima stagione. Le anticipazioni del Paradiso delle Signore del 13 gennaio, inoltre, rivelano che Ezio comprenderà di aver esagerato nei confronti di Veronica, motivo per il quale le chiederà di riprendere di nuovo il suo lavoro all'interno del grande magazzino milanese. Grazie.